Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo L'Equità. Spero che dopo la spedilite su tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo L'Equità perché molte volte bisogna affrontare i discorsi basando la nostra attenzione sulla parità delle cose e i giudizi che appunto doneranno questa convinzione ci porteranno a ragione in maniera corretta. Bisogna cercare di sforzarsi per ottenere tanta equità tra i popoli e così da poter ottenere giustizia in tutti i sensi quindi l'equità dovrebbe regnare sovrana nelle nostre ideologie nella nostra mente quotidiana. Vi leggo appunto la poesia dal titolo L'Equità. Dovete affrontare i discorsi basando la vostra attenzione sull'equità e i suoi giudizi che doneranno tanta convinzione. Cercate di sforzarvi per ottenere la degna equità tra i popoli così che potrete godere della giustizia nei sensi veri. L'equità vi doni forza per essere sempre corretti e sia per voi una perseveranza che porta a traguardi sapienti. L'equità è la parità dei diritti umani. Vivetela come un'entità che sia a faro tra i cristiani. Grazie. Speditela a tutti i vostri contatti Whatsapp. Arrivederci.